Quando presentavamo la prima generazione di Sesto Senso ti permette di rimuovere blocchi extra, controlli esterni e cavoli con il motore più avanzato che può essere connesso facilmente con molti telescopi e da ora il nostro team di ingegneria ha potuto aggiungere ancora più avanti in questo motore già impressionante! Benvenuti a Sesto Senso 2! Ora il Sesto Senso 2 aggiunga molti nuove funzioni per aiutarti a concentrare il tuo telescopio con più accurata e facile di usare! Il Sesto Senso 2 viene ora con un connettore USB Type-C per più rilassabilità. Inoltre il connettore è reversibile, quindi è facile connesso nella scura. Il Sesto Senso 2 viene anche con un porto ARCO che ti permette di connettare al nostro rotatore con solo un cavolo. Grazie alla tecnologia di servizio in clamp, lo puoi connessurare a molte brand di focusers senza bisogno di bracchi esterni. Sesto Senso 2 connessa direttamente a 25 mm, che sono i più comuni tra focusers con fine focus knob, e se bisogna, abbiamo l'adaptor disponibile per altri focusers. Il nostro team di design ha anche migliorato la forma in cui connessi Sesto Senso al tuo focuser. In effetti, ora Sesto Senso 2 viene con un nuovo sistema di basso, che potrà anche mitigare problemi con focusers che non hanno un cavolo perfetto di centri. Sesto Senso 2 nuove un wifi built in, quindi puoi controllare il remotamente usando la handpad virtuale sul tuo smartphone o tablette. In questo modo puoi concentrare il tuo telescopio senza bisogno di un computer o un handpad esterno. E ora, se preferisci, puoi dimmiare o tornare completamente le luci led. Un'altra avventura è che, anche se il Sesto Senso è già installato, puoi ancora manualmente muovere il focuser senza bisogno di ridurre il motore. Sesto Senso 2 può essere controllato dall'Eagle o dal computer Windows usando il software Play, che ti permette di fare l'astrofotografia in modo più facile. Ma puoi controllarlo anche usando l'ascom driver, che ti permette di controllarlo dal software di terza parte. con i software. Tutti questi grandi funzionamenti abbiamo incontrato nel motore robotico più avanzato, leggermente e compatto, designati per il focus remotamente con una grande precisione di 0.7 µm per step. Sesto Senso 2 ora dà ancora più funzioni, e è ancora di nuovo la migliore scelta in motore robotico per i telescopi. E' stato giusto per 10 di video. Sì, mi è vero,